La tematica del Polo Universitario Spezzino è stata al centro ieri sera del Consiglio Comunale della Spezia. C'è stato un ordine del giorno della maggioranza e una mozione dell'opposizione presentata dal PD in particolare. Sì, noi abbiamo voluto riportare il tema del Polo Marconi al centro del dibattito cittadino con una nostra mozione che riguardava non solo lo sviluppo ulteriore del Polo in termini sia di corsi che di servizi per gli studenti ma che si inserisce anche in una discussione purtroppo di questi giorni, di queste ultime settimane riguardo al dimezzamento dello stipendio dei professori che è una scelta da parte dell'Università di Genova che mette a repentaglio anche la continuità dei corsi stessi del Polo Marconi. È stata una discussione sul merito con anche una dialettica collaborativa da parte della maggioranza a tal punto che ha fatto pensare anche a noi stessi di poter convergere su un documento unitario. Questa cosa non è stata possibile e quindi alla fine ci siamo sentiti comunque in dovere di spedire comunque i documenti nella commissione competente. Ci sono due ordini di problemi, uno che riguarda la mancanza di docenti nei corsi che sono svolti attualmente e poi una prospettiva anche di nuovi corsi di studio per l'Università Spezzina. Ci troviamo di fronte a un problema che per quest'anno sembra risolto perché i professori, la stragrande maggioranza, hanno assicurato l'inizio e il proseguo di corsi per tutto l'anno universitario. Però il prossimo anno se non si mette mano a questo problema degli stipendi si riprodurrà la situazione che abbiamo visto adesso. In più rispetto a una serie di sfide che la città e le economie si trovano ad affrontare proporre ai ragazzi spezzini e non una serie di corsi strettamente connessi alle tematiche e all'economia in più forte sviluppo nella città e quindi non solo la nautica. Noi proponiamo per esempio dei corsi di laurea triennale e dei master legati al turismo come anche dei corsi e dei master legati alla logistica e alla circolazione delle merci. Ovviamente occorrono risorse e in questo momento le risorse languono. L'idea geniale che è stata alla base del polo e che noi riproponiamo è proprio quella di far capire anche alle economie cittadine che una partecipazione diretta di queste insieme al pubblico nella nascita e nello sviluppo anche della formazione e di un polo universitario come può essere quello del Marconi alla Spezia è un win-win per entrambi.